E' stato strappato alla vita troppo giovane, aveva solo 49 anni. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Se n'è andato Pasquale Caputo, maresciallo dei Carabinieri, lasciando un vuoto nella sua famiglia e in quanti lo hanno conosciuto. Pasquale attualmente prestava servizio presso la caserma dei Carabinieri di Vallo della Lucania. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto, Pasquale si è spento nella sua casa a Poderia, nel suo amato Cilento. Un uomo apprezzato da tanti per il suo attaccamento al dovere, un lavoratore come pochi, con valori umani e professionali che lo distinguevano. Tanti messaggi di cordoglio da parte di amici sulla sua pagina Facebook. Non doveva andare così se è andato via con un soffio di vento, in punta di piedi, scrive un amico sul suo profilo. Impossibile riuscire a comprendere ed accettare tutto questo. Avevi ancora una vita intera davanti. Ci hai lasciati senza parole, si legge in un altro post. Carissimo amico non solo mio, ma di tutti. Porteremo sempre il tuo sorriso indelebile nei nostri cuori. Pasquale lascia sua moglie e la sua piccola bimba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.